wiii brutto pezzo di camperista ecco qua la lista quasi tutto cancellato devo ancora cancellare il dentista non sono passato ma ho incollato un ponte il passaporto ha mandato la mail e la masciata italiana e il 2 novembre devo andare per cui non stiamo qua a girongiolare ritorniamo sui monti rodopi facciamo un po tipo pallina da ping pong a destra sinistra però ogni tanto funziona così comunque tutto questo è stato segnato abbiamo fatto la lavatrice anzi le lavatrici è stato fighissimo ci hanno messo quattro ore perché se ne sono occupate queste due ragazze 6 euro per due lavatrici lavate asciugate piegate messe nel sacchettino una delizia e quindi abbiamo messo tutto già pronto bello profumato nell'armadio siamo in riva un bellissimo lago che adesso ti faccio vedere questa è la mughiera e questo è il lago